Partenza inedita dalla Corsica e arrivo al tramonto a Parigi per il Tour de France 2013, edizione numero 100. Dopo l'era Armstrong, la corsa francese vuole voltare pagina. Il nemico, ha detto il direttore Christian Prudhomme, presentando a Parigi il tracciato davanti a 4.000 persone, è il doping. Non certo il ciclismo e ancora meno il Tour. A due giorni dalla revoca da parte dell'Unione Ciclistica dei Sette Trionfi di Armstrong nella Corsa Gialla, Prudhomme ha invitato ITM ad aderire alle regole draconiane del movimento per un ciclismo credibile. Alberto Contadori, incoronato due volte nel Tour 2008 e 2009, privato del trofeo nel 2010 per doping, ha difeso il texano. Lanza è il corridore che mi ha fatto amare il ciclismo e oggi è vittima di un attacco in piena regola, non per forza meritato. Il Tour 2013 partirà da Portovecchio, in Corsica, dopo i primi tre giorni sull'isola, visiterà Nizza, Marsiglia e Montpellier. Prima di raggiungere Albi affronterà due giorni nei Pirenei. Nella seconda settimana si correrà soprattutto in pianura, San Malo, Tour, Lyonna, ma si chiuderà in bellezza con l'ascensione per il versante sud del Mont Ventoux. L'ultima settimana la gara risalirà alle Alpi con la doppia ascensione sull'Alpe II. In tutto 3.360 km con più salite, 28 i colli contro i 25 del 2012. Al contrario, le crono individuali sono state tagliate di un terzo rispetto allo scorso luglio, 65 km contro 101,4 km.